La sfida continua, ancora più intensa, ancora più emozionante. Dopo il successo del campionato italiano, la competizione diventa internazionale, con i più grandi campioni di biliardo provenienti da tutta Europa. Campionato europeo di biliardo, l'evento sportivo dell'anno. Dal 29 novembre al 2 dicembre a Mirabella e Clano, in piazza 24 maggio, nel centro storico. Impianto sportivo e Clano. La manifestazione sarà ripresa da Rai Sport.